Ciao a tutti dal Salutatore, eccomi con il grande Sergio Reggioli, dei grandi nomadi. Facciamo solo a tutti i fan dei nomadi. Carissimi, ciao, grazie ancora per tutto. Grazie a voi, grazie a te e ora sorpresa per te, la manina del Salutatore. Ah però! Ecco, ciao! Ciao! Grande, grandi nomadi, ciao!